il misterioso mondo dell'iconico Elvis Presley, la leggenda del rock'n'roll che ci ha lasciato troppo presto a soli 42 anni. Ti sei mai chiesto cosa si celasse dietro la sua scomparsa e i suoi ultimi momenti? Si scopre che le sue ultime parole hanno svelato un sorprendente segreto, un lato di Elvis raramente visto dai suoi affezionati fan. Nel video di oggi esploreremo la vita, l'eredità e le rivelazioni inaspettate che circondano l'indimenticabile Elvis Presley. La vita di Elvis Presley è stata davvero affascinante. Rimanete sintonizzati per un viaggio attraverso la straordinaria vita e la tragica fine dell'unico e inimitabile re del rock'n'roll. La giovinezza di Elvis Presley. Prima di svelare i segreti sorprendenti della leggenda Elvis Presley, diamo un'occhiata all'infanzia inaspettata e alle umili origini di questa figura iconica. Gli anni formativi di Elvis Presley non sono stati affatto tipici per una superstar del rock'n'roll. Il maestro di Jailhouse Rock venne al mondo l'8 gennaio 1935, in una modesta casa di due stanze a East Tupelo, come riportato da Mississippi History Now. Un tempo questa zona era conosciuta come la città più difficile del nord Mississippi. I genitori di Elvis, Gladys e Vernon Presley riempivano di affetto il loro figlio nonostante le loro condizioni economiche. Anche prima della sua nascita, Vernon ha condiviso con Good Housekeeping nel 1978 quanto fosse profondo il suo amore per il bambino. «Eravamo quasi i più poveri della città quando io e mia moglie Gladys ci siamo sposati. Siamo stati felicissimi quando abbiamo scoperto che stavamo per avere una famiglia», ha raccontato. Tuttavia, la gioia della giovane famiglia fu di breve durata. Dopo che Vernon ebbe problemi per aver cambiato un assegno da 4 dollari, la casa che il padre, lo zio e il nonno di Elvis avevano costruito fu portata via quando Elvis aveva solo 3 anni. Mentre Vernon scontava una condanna di 8 mesi, Elvis e sua madre furono costretti a vivere con parenti a Tupelo. Secondo un cugino, la celebrità soffrì molto nel vedere l'incarcerazione del padre. L'improbabile ascesa di Elvis Presley, è difficile immaginare che il futuro re del rock and roll fosse inizialmente considerato privo di talento musicale. Famoso per le sue canzoni leggendarie e le sue performance elettrizzanti, l'unico ed inimitabile Elvis Presley non aveva risultati scolastici particolarmente brillanti al liceo. Il musicologo in pensione Peter Guralnik afferma che mentre Elvis era studente alla Humes High School di Memphis, era a lontano anni luce dalla superstar che sarebbe diventato in seguito. In effetti, quasi nessuno prestava attenzione a lui perché era un outsider. Elvis ebbe difficoltà ad adattarsi alla sua nuova casa dopo che la famiglia si trasferì da Tupelo. Tuttavia sappiamo tutti che questo era solo l'inizio. Nonostante la scarsa accoglienza ricevuta al liceo, Elvis sarebbe in seguito diventato un'icona globale rivoluzionando l'industria musicale. La sua incrollabile dedizione alla musica lo portò al suo vero destino. La signora Marmon, l'insegnante di musica di ottava classe di Elvis, non si trattenne ma questo lo fermò? Assolutamente no. La vera musica di Elvis dimostra senza ombra di dubbio che possedeva un immenso talento. Cantò una toccante versione di Keep Them Cold, Icy Fingers Off Of Me in classe, dimostrando che la signora Marmon si sbagliava nel giudicarlo. Questo fu l'inizio della sua straordinaria scesa nel mondo della musica. Sembra che Elvis seguisse le orme del padre, lavorando in vari impieghi dopo il diploma, tra cui quello di camionista. Tuttavia il suo destino era diverso. Nel 1953 tutto cambiò quando Elvis si presentò alla casa di registrazione di Memphis per incidere un disco come regalo per sua madre. Poco sapeva che questo gesto apparentemente semplice avrebbe gettato le basi per il suo rapido percorso verso la celebrità. Ma cosa accadde realmente? Secondo il New York Times, la versione ufficiale narra che il 18 luglio 1953 il giovane Elvis entrò negli studi della casa di registrazione di Memphis per registrare un acetato come dono per sua madre, Gladys. Si trattava di un bel gesto, considerando che lei gli aveva regalato la sua prima chitarra per il suo undicesimo compleanno. Per soli quattro dollari Elvis incise My Happiness e That's When Your Heart Hakes Begin, due brani che sarebbero poi diventati famosi nel mondo della musica. Ironia della sorte, sua madre non ebbe mai la possibilità di ascoltare la registrazione poiché la famiglia Presley non possedeva nemmeno un giradischi in quel periodo. L'inizio dell'incredibile viaggio di Elvis. Nel 1956 Elvis passò all'RCA Victor, un'etichetta di Nashville molto rinomata. Fu qui che pubblicò Heartbreak Hotel, una canzone che lo catapultò verso la fama e divenne il suo primo disco d'oro. Improvvisamente Elvis era un nome noto in tutto il mondo e non c'era modo di tornare indietro. Tuttavia, nonostante la fama e l'affetto, Elvis non dimenticò mai le sue origini. Il suo amore per la famiglia era forte e decise che era tempo di restituire a coloro che lo avevano amato. Elvis mantenne la sua promessa. Acquistò una villa coloniale fuori Memphis chiamata Graceland, dove avrebbe vissuto con i suoi genitori, e la sua amata nonna, Minnie Mae Dodger Presley. Anche dopo la sua morte, l'eredità di Elvis continuò a vivere attraverso Graceland. La sua ex moglie, Priscilla Presley, trasformò la villa in un'attrazione turistica, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Infatti, divenne la seconda residenza più visitata del paese. Non solo. Nel 2017, Priscilla aprì un hotel con 450 stanze, di fronte a Graceland, offrendo ai fan l'opportunità di immergersi nel mondo di Elvis. Graceland è diventata più di un semplice sito storico. È un luogo in cui i fan possono sentirsi vicini al re del rock'n'roll, un attestamento all'eredità duratura di un musicista che continua a incantare il pubblico decenni dopo la sua prematura scomparsa. Il gemello sopravvissuto. Nel caso pensassi di sapere tutto su Elvis Presley, devi sapere che aveva un fratello gemello. La leggenda era in realtà uno dei due gemelli identici. Suo fratello Jesse Garen nacque 35 minuti prima di lui. Si dice che i buoni muoiano giovani ed è tragico che Jesse sia nato morto. La sua sepoltura avvenne il giorno successivo in una tomba non contrassegnata nel cimitero di Priceville. Elvis spesso parlava del suo defunto fratello e l'enorme impatto della sua perdita fu evidente nel corso della sua carriera. La biografia psicologica di Pete Whitmer, The Inner Elvis, afferma che Gladys Presley, la madre di Elvis, pensava che la morte di Jesse avesse giocato un ruolo importante nel plasmare il destino di Elvis. È fondamentale ricordare che perdere un gemello è una perdita significativa. Linda Thompson, che era vicina a Elvis, raccontò una volta al cantante di un sogno inquietante che aveva avuto. In questo sogno Thompson, che era effettivamente il fratello di Elvis, gli raccontò di come Elvis avesse cercato di salvarlo ma fosse morto soffocato. Questo è un'affermazione piuttosto audace. Sembra che il gemello sopravvissuto possa essere profondamente influenzato dalla perdita del proprio fratello. Elvis probabilmente desiderava avere un fratello al suo fianco per affrontare i giorni bui della sua vita travagliata. Un cuore spezzato che echeggia attraverso l'eternità, la tragica morte del gemello di Elvis ebbe un profondo impatto sulla sua relazione con sua madre, Gladys, e sulla traiettoria della sua vita. La sua tendenza a proteggere il figlio sopravvissuto era comprensibile. Potrebbe essere stata tormentata dalla prospettiva di perderlo anch'esso. Oltre alla sua iperprotezione, Gladys fu un sostegno costante per Elvis e il loro legame era indistruttibile. Elvis fu devastato nel ricevere la notizia della sua prematura morte a 46 anni a causa di un attacco cardiaco, come ci si aspettava. Gladys non c'era più e Elvis era già arruolato nell'esercito statunitense. Tuttavia gli fu concesso un breve permesso per stare con sua madre e alla fine la avrebbe persa. Durante il funerale di Gladys il suo dolore per la perdita della madre era evidente. Pianse in modo incontrollabile durante la cerimonia, riportando di essere sull'orlo dell'isteria per il suo dolore straziante. Elvis fu citato dicendo «Oh, tutto ciò che possiedo è andato, in un momento carico di emozione. Tu sei stata la ragione della mia vita. Significavi il mondo per me». Mentre Elvis cercava di accettare la morte della madre, l'intero mondo condivise il suo lutto. Sfortunatamente questo era solo l'inizio della triste storia che stava per svelarsi e nessuno ne era a conoscenza. Il mondo fu nuovamente scosso da una terribile notizia il 16 agosto 1977. Un corpo fu scoperto nel bagno di Elvis Presley. Mentre milioni di ammiratori piangevano la morte del loro idolo, la notizia si diffuse rapidamente nel mondo. Tuttavia, con il passare del tempo, emersero sempre più interrogativi sulla morte di Gladys. Sembra che ci fosse una storia nascosta dietro la morte di Elvis che tutti avevano trascurato. Molti si chiedevano qual era la vera causa della caduta di questa icona musicale e circolavano voci e teorie del complotto. Pensate che sia stata solo una questione di cattiva salute o sospettate che ci fosse qualcosa di più sinistro? La morte misteriosa di Elvis Presley. Elvis Presley, il frontman dei Rolling Stones, era senza pari. La leggenda che lo circonda è il risultato della sua musica, della sua personalità e della sua tragica morte. Cosa accadde realmente quel triste 16 agosto 1977 nella sua leggendaria villa di Graceland? Esaminando più da vicino, possiamo svelare i fatti nascosti riguardo alla prematura scomparsa di Elvis Aaron Presley. Fu trovato privo di sensi nel bagno della suite matrimoniale da Ginger Alden, la sua fidanzata. Le sue ultime parole a lei furono una promessa non scialante che non si sarebbe addormentato in bagno. Sfortunatamente, il re non avrebbe mai più pronunciato quelle parole. Nel 1980, l'ipertensione cardiovascolare associata a malattia coronarica aterosclerotica fu riportata come causa della morte nel certificato di decesso di Elvis, un attacco cardiaco, per dirla semplicemente. È tutto finito? Purtroppo, molto rapidamente. Questa versione fu accolta con scetticismo da alcuni fan. Credendo che la morte di Elvis fosse dovuta a una letale miscela di farmaci prescritti, diversi sostenitori dubitarono di questa spiegazione. Tuttavia, il medico legale Jerry Francisco del Tennessee non accettò questa teoria. Negò categoricamente tali affermazioni, affermando che la morte di Elvis fosse dovuta a una malattia cardiaca e che i narcotici che stava assumendo non avessero avuto alcun ruolo nella sua morte. Tuttavia, non molti furono convinti da questa versione ufficiale. Molti patologi espressero il loro disappunto nei confronti dell'indagine di Francisco sulla morte di Elvis, sostenendo che un cocktail letale di farmaci avrebbe dovuto essere identificato come causa del decesso. La narrativa ordinata delle autorità sulla morte di Elvis Presley cela una realtà ben più complessa. L'abuso di farmaci prescritti era un problema per Elvis, così come per molte altre celebrità del suo tempo. Anche se era il re dello Stato, il monarca combatteva i suoi demoni dietro le quinte, trovando conforto in medicine che non avresti trovato in un negozio di caramelle. Dopo la morte di Elvis, il rapporto tossicologico rivelò tutti i farmaci che stava assumendo. Sembrava che il flusso sanguigno di Elvis fosse una vera e propria farmacia, colmo di oppiacei come Demerol, Dilaudid, Percodan, Qualuds e Codeina. La famiglia Presley richiese un'autopsia privata, forse perché voleva mantenere riservate le informazioni. Così il pubblico rimase a dipendere da voci e pettegolezzi. Due dei patologi che lavorarono al caso non rivelarono il segreto sulla causa ufficiale della morte fino a molto tempo dopo. La percezione pubblica di Elvis Presley come la rock star, onorata con un distintivo speciale dal Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs sotto la presidenza di Nixon, sembra essere persistita anche dopo la sua morte. La scomparsa dell'icona del rock and roll a causa di un'overdose di droghe non sarebbe stata certo un bel colpo, giusto? Tuttavia la verità alla fine emerge. È stato noto per decenni che Elvis Presley morì per un'overdose di eroina, nonostante i tentativi della famiglia di mantenere segreta la questione. Tuttavia nel 1977 le cose erano più nebulose. Le voci erano l'unica fonte di informazioni disponibile al pubblico. Secondo David Stanley, il fratellastro di Elvis, nel 1980 l'uso di droghe da parte del cantante era senza precedenti. Inoltre non si riferiva a sostanze illecite. No, questi erano farmaci prescritti da un medico. Alcuni dei medici, afferma Stanley, erano solo interessati a fare soldi rapidamente e prescrivevano farmaci in modo sconsiderato. Sembra che un medico fosse il principale responsabile. Il fatto che il dottor George Nikopoulos, medico di Elvis, fosse noto per prescrivere farmaci come fossero caramelle, lo ha reso famoso. Nei sette mesi precedenti alla sua morte, gli diede più di 5.000 compresse e capsule di narcotici. Ma non è tutto. Secondo alcune fonti, nessuno avrebbe potuto farlo tranne Elvis Presley. Nei venti mesi precedenti alla morte di Elvis, nel 1980, Nikopoulos prescrisse un incredibile numero di 12.000 compresse. È abbastanza medicinale per aprire una farmacia. Insieme ad altri 19 pazienti che avevano ricevuto prescrizioni eccessive, Nikopoulos fu infine accusato nel 1980 per il suo coinvolgimento nel caso di Elvis. Ciò che è più scioccante è che nei venti mesi precedenti alla morte di Elvis fu accusato di aver prescritto 12.000 pillole al re. Sorprendentemente, però, entro il 1981 tutte le accuse furono ritirate. Alcune persone sembrano avere un'abilità sorprendente nel sfuggire al controllo, anche di fronte a montagne di prove. La tragica perdita della vita di Elvis è un ammonimento che nessuna quantità di ricchezza o celebrità può proteggerti dal potere distruttivo dell'abuso di sostanze. Solo gli sciocchi si precipitano, come cantava una volta Elvis Presley. Inoltre, potrebbe essere stato eccessivamente pronto a cercare conforto nei farmaci prescritti, mentre cercava di sfuggire alle pressioni della fama. Elvis era nell'esercito? Nel 2018, dopo molti anni, Priscilla Presley ha fatto una rivelazione scioccante riguardo al suo defunto marito, Elvis Presley. Secondo Priscilla, fu durante il servizio nell'esercito che Elvis entrò per la prima volta in contatto con il traffico di droga. Si dice che le truppe ricevessero farmaci per rimanere sveglie e così iniziò la dipendenza di Elvis. Ma come si ritrovò arruolato? Tutto cominciò poco dopo l'acquisto della sua celebre villa di Graceland. Dopo due anni di servizio militare, fu inviato in Germania. Secondo le informazioni, questo evento influenzò notevolmente la sua carriera e la sua immagine pubblica, contribuendo a formare l'artista che conosciamo. Tuttavia, molti hanno contestato la versione ufficiale dei fatti e la verità sulla morte di Elvis rimane ancora un tragico mistero. Alcuni sono addirittura arrivati a sostenere di aver avvistato il celebre musicista, portandoli a credere in teorie del complotto. Queste teorie però sono semplici storie fantasiose? O forse non sono del tutto false? Teorie del complotto. I teorici del complotto affermano che la morte di Elvis, avvenuta il 16 agosto, non fu affatto pacifica. No, non sarebbe affatto degna di una leggenda del suo calibro. Dicono invece che avesse architettato un complesso piano per sfuggire ai riflettori e rimanere anonimo per il resto della sua vita. Come avrebbe dovuto realizzare questa scomparsa? Si dice che un misterioso elicottero nero sorvolasse Graceland nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo senza vita di Elvis. Un evento strano? Non secondo i teorici. Secondo le loro convinzioni, il leggendario musicista fu portato in un luogo sicuro con questo strano elicottero. Le Bermuda sarebbero state considerate un rifugio lontano dallo scrutinio costante e dalle pressioni della fama, dove Elvis avrebbe deciso di ricominciare da capo. Non solo. Il documentario The Elvis Files del 1990 mostrerebbe un poliziotto che afferma di aver visto immagini di Elvis salire a bordo di quello che sembrava un elicottero governativo. È questa l'ultima prova che dimostra che Elvis avesse in realtà avuto un enorme successo? Secondo alcune teorie, per sfuggire alla mafia Elvis avrebbe finto la sua morte. Gail Brewer Giorgio, autrice, afferma che Elvis fosse stato reclutato dall'FBI per aiutare a smantellare un'organizzazione criminale come agente sotto copertura. Ma quando iniziarono a sorgere dubbi sulla sua lealtà, Elvis capì che aveva bisogno di una sostanziale protezione dei testimoni. Brewer Giorgio affermò audacemente che Elvis fingeva di essere morto perché sapeva che stava per morire. Inoltre alcuni detective perspicaci hanno messo in luce un aspetto intrigante della lapide di Elvis a Graceland. Infatti, invece di Aaron, il suo secondo nome è scritto Aaron. È possibile che il re, con la sua astuzia, stesse lasciando un indizio in questo modo? Gli teorici del complotto sostengono che, essendo Elvis un uomo superstizioso, non avrebbe voluto che il suo vero nome fosse inciso su una lapide se fosse stato vivo oggi. Si tratta di un decreto assoluto. È un argomento forte, anche se i dubbi sottolineano che Elvis iniziò a usare Aaron come secondo nome solo negli ultimi anni. La fede degli teorici del complotto è solo frutto di un desiderio? Cosa pensi di queste ipotesi fantasiose? Credi che Elvis Presley stia gustando un margarita su una spiaggia, vivendo appieno il suo status leggendario? O pensi che sia tutto solo una sciocchezza? Sentiti libero di condividere le tue opinioni con noi nello spazio fornito. L'ultima conversazione di Elvis Presley. Decine di migliaia di fan, molti in lacrime, si radunarono davanti alla celebre abitazione del re del rock'n'roll, Graceland, a Memphis, Tennessee, mentre la notizia della sua morte improvvisa si diffondeva in tutto il mondo. Ginger Alden, la sua fidanzata, rivelò che il leggendario attore era colmo di ambizioni per la sua carriera e la sua vita personale. Elvis Presley, in particolare, era un uomo potente nei suoi ultimi giorni. Mostrava un'immensa determinazione, come un eroe che si prepara a un grande evento. Anche se si trattava di un semplice e sincero desiderio, la sua ricerca di fama e denaro era fondamentale. Non era una brama grandiosa di maggiore successo o notorietà, né un dolore per sogni infranti. Invece, era un bisogno intenso di pace interiore e perdono. Due giorni prima della sua morte, Elvis disse a suo fratellastro che stava pianificando di apportare molti cambiamenti alla sua vita. Ora che suo fratellastro ha parlato, sappiamo di più sulle ultime parole di Elvis, che rivelano il suo rammarico per le sue azioni e i suoi ambiziosi piani per un cambiamento drammatico in meglio. Rivelazioni recenti di Billy Stanley hanno rivelato che il suo ultimo incontro con Elvis avvenne a Graceland il 14 agosto, pochi giorni prima della tragica morte del re. Sorprendentemente, i due erano impegnati in una breve lotta di karate nel bagno. Si narra che Elvis non vedesse l'ora di mostrare i suoi nuovi coltelli da karate a suo fratellastro. In un momento spensierato, iniziarono a combattere, ma le cose presero una piega oscura quando Stanley colpì accidentalmente il re, che era un maestro di karate, il quale rispose prontamente. Sebbene Stanley fosse quello che subì la controffensiva di Elvis, lo fece con un atteggiamento leggero, ammettendo che fosse stato un suo errore. Dopo l'incidente, Stanley descrisse come Elvis si prese un momento per riprendersi dopo aver accidentalmente ferito suo fratellastro, poi lo portò nel bagno. Mentre si trovava davanti allo specchio, Elvis sembrava prepararsi per un'operazione imprevista, facendo un grande affare di nulla. Nel frattempo, Stanley non poteva far altro che osservare con totale sbigottimento, mentre il re si preoccupava di qualcosa di insignificante. La narrazione della morte del re rimase avvolta nel mistero, nonostante la sua brevità. Dopo la breve discussione, tutti in famiglia si perdonarono rapidamente. Ma Elvis cambiò subito argomento, ponendo a suo fratellastro una domanda profonda. Dio ci perdona davvero quando pecchiamo? Stanley, sorpreso da questo improvviso cambiamento filosofico, rassicurò a Elvis che avevano già parlato ampiamente di questo argomento in passato. Tuttavia Elvis, che in quel momento si sentiva vulnerabile, desiderava davvero sentirlo dire da suo fratellastro. Questo bisogno di perdono e armonia illuminava la dimensione spirituale frequentemente trascurata della vita di Elvis. È possibile che Elvis fosse in realtà più spirituale di quanto apparisse? Il lato mistico di Elvis Presley rimase in gran parte sconosciuto ai suoi devoti seguaci, che lo vedevano come una divinità del rock and roll. Sotto i fianchi tremolanti e le labbra arricciate si nascondeva un uomo che cercava la volontà di Dio e conforto in ogni aspetto della sua vita. Billy Stanley, il fratellastro di Elvis, afferma che prima di salire sul palco il re recitava in silenzio una preghiera. Pregava per un momento di calma e guida prima della sua esibizione, una routine che lo aiutava a connettersi con il divino e a calmare i nervi. Stanley ha dichiarato che lo riconoscevamo quando lo vedevamo abbassare la testa. La spiritualità di Elvis, spesso oscurata dalla sua personalità straordinaria, veniva messa a nudo in quel momento intimo. Tuttavia, il desiderio di Elvis di cercare un intervento soprannaturale non si limitava solo ai concerti. L'importanza della preghiera e della gratitudine erano valori che trasmetteva a familiari e amici. Leggeva ad alta voce dalla Bibbia e guidava la preghiera prima di andare a letto ogni sera, insegnando loro verità importanti lungo il cammino. Avere Elvis come insegnante nella scuola domenicale era un'esperienza indimenticabile, affermò Stanley. Oltre a essere un leggendario cantante di rock and roll, il re del rock and roll era anche un saggio consigliere che incoraggiava i suoi seguaci a ridere di più, a migliorare le relazioni e ad avere fiducia in se stessi. Elvis non lasciò mai che la sua fama o la sua ricchezza offuscassero la sua fede. Leggeva frequentemente la Bibbia annotando i versetti che lo colpivano e, segnando quelli che sentiva, necessitassero di maggior enfasi. La sua musica, come la sua vita, era intrisa di insegnamenti spirituali. Elvis Presley rimase vicino a Dio attraverso la musica e la preghiera. Pochi sanno che cantava canti gospel fino all'alba dopo ogni esibizione. Era un essere umano straordinario, senza eccezioni. Ma anche il re del rock and roll, Elvis Presley, non era infallibile. Il fatto che il suo matrimonio sia diventato una metafora per relazioni difficili, dimostra che anche le persone famose non sono perfette. Facciamo un viaggio indietro nel tempo fino al 1958, quando Elvis Presley, l'indiscusso re del rock and roll, fu arruolato nell'esercito degli Stati Uniti. Fu in quel periodo che conobbe per la prima volta la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. Chi inizia il punto d'incontro tra l'insoddisfazione di Elvis e la sua infelicità. È un grande uomo, meraviglioso in ogni aspetto. È un essere umano straordinario. Questo è il momento in cui le cose iniziano a diventare un po' interessanti. All'epoca la sua futura moglie aveva solo 14 anni, mentre Elvis, considerato una delle figure più famose al mondo, aveva già 24 anni. Quando Priscilla fu intervistata da Barbara Walters nel 1985, ammise che era la sua inesperienza a intrigare il superstar. Priscilla rivelò di averlo ascoltato e di aver seguito il suo consiglio. Si potrebbe dire che sia una sorta di adattamento rock and roll del classico musicale My Fair Lady, ma nella vita reale. Secondo l'attrice, venne plasmata nell'ideale di donna che Elvis desiderava. Elvis Presley era una persona straordinaria. Dopo aver riflettuto attentamente, Priscilla rivelò che indossava i vestiti, acconciature e il trucco che lui aveva scelto per lei. Era quasi come se fosse la sua Barbie vivente. I suoi capelli erano tinti di nero, proprio come i suoi, e li portava in un'acconciatura che rappresentava il famoso pompadour di Elvis. Tuttavia, come sappiamo, anche le relazioni più glamour possono attraversare momenti difficili. Nonostante la ricchezza e la fama che li circondavano, Priscilla ed Elvis iniziarono a distanziarsi a causa del continuo tour di Elvis, della sua crescente dipendenza dalle pillole e della sua vita non proprio sobria. Nel 1978, Priscilla espresse i suoi pensieri in modo aperto e onesto, dicendo «Amami teneramente, amami sinceramente». Tuttavia, ci sono situazioni in cui l'amore da solo non è sufficiente a far funzionare le cose. Dopo aver raggiunto il suo limite nel 1972, Priscilla decise di mettere fine alla sua carriera. Quando avevo 28 anni, presentai richiesta di divorzio e completai le pratiche un anno dopo. D'altra parte, ci fu un dramma ancora maggiore. Dopo il divorzio, Elvis iniziò una nuova relazione con Ginger Alden e le chiese di sposarlo appena due mesi dopo il loro primo incontro. Questo segnò l'inizio della sua nuova storia d'amore. Nonostante le difficoltà causate dal loro matrimonio, Elvis e Priscilla rimasero amici. Durante un'intervista con Closer Weekly, lei ricordò con affetto la sua partenza nel 1977, dicendo «È come se il mondo si fosse fermato». Secondo la leggenda, Elvis Presley, il re stesso, ebbe una premonizione di incontrare il suo destino quando avrebbe avuto 40 anni, proprio come fece la sua amata madre. A questo punto, è possibile che non sapremo mai se fosse un sensitivo o semplicemente una persona molto abile nel realizzare le cose. Tuttavia, c'è una cosa certa. La previsione di Elvis si rivelò sorprendentemente precisa. Poiché non poteva rifiutare un favore dal suo manager, Elvis Presley tenne la sua ultima esibizione dal vivo nel giugno del 1977. Fu l'ultima volta che si esibì davanti a un pubblico. Vuoi sapere quale fu la sua canzone d'addio? La canzone in questione è «Can't help falling in love». Dopodiché, in quel triste giorno del 16 agosto 1977, il mondo intero diede il suo ultimo addio all'uomo che aveva conquistato i loro cuori, con le sue dolci melodie e i suoi fianchi oscillanti. Tuttavia, nonostante Elvis avesse lasciato il palcoscenico, sarà sempre ricordato come il re del rock and roll nei nostri cuori. Grazie per aver guardato questo video. Per ulteriori storie interessanti sulle leggende, assicurati di iscriverti e attivare le notifiche per essere il primo a sapere quando sarà pubblicato il prossimo video.